Sindaco, il giorno dopo il dolore è ancora grande, c'è la stima dei danni, ci sono ancora persone fuori dalle case. Insomma, cosa si sente di dire a meno di 24 ore dalla tragedia accaduta ieri alla riserva d'Annunziana? Intanto mi sento di ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per domare un incendio di proporzioni incredibili. I danni sono incalcolabili, però ho visto gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, tutti impegnati. E poi ho visto i cittadini di Pescara scendere in strada con mezzi di fortuna per cercare di domare un incendio che divampava in diversi punti della città. Il Canadair e due elicotteri hanno gettato acqua decine e decine di volte, anche con manovre spericolate, con un vento incredibile che spostava i lapilli in tutte le zone. 60 persone hanno dormito fuori casa, 33 suore del convento in via De Cecco. E' una situazione drammatica, 20 persone sono andate al pronto soccorso, meno male non ci sono state situazioni sanitarie gravi. Però l'angoscia è stata tanta e la distruzione si vede. Questa mattina è ancora peggio perché alberi scheletrici, scheletriti, ci sono ancora zone fumanti, c'è il fuoco evidentemente che cova sotto la cendera. Adesso ci sono i vigili del fuoco e i dipendenti comunali che stanno verificando i danni, soprattutto stanno mettendo in sicurezza la pineta, alcuni alberi che rischiano di crollare. E' una situazione surreale. Io mi auguro che se c'è la mano dell'uomo questa mano venga punita severamente.